La lettera del sindaco non l'abbiamo neppure ricevuta. Finisce nel vuoto, almeno per il momento, la corata missiva scritta e firmata dal primo cittadino di Oria, Cosimo Pomarico, indirizzata alla famiglia Romanin Caliandro, proprietaria di Borgo Ducale e del Castello Svevo, dissequestrato da oltre un mese eppure ancora chiuso a turisti e cittadini. Un problema che, francamente, non è all'ordine del giorno per i proprietari. Ce lo spiega Emanuela Romanin, responsabile, fino allo scorso anno, di tutte le manifestazioni, di tutta l'organizzazione del maniero più discusso d'Italia. Non viviamo a Doria, ma a Brindisi, ci spiega la Romanin, e abbiamo preso la buona abitudine di non leggere più i giornali. Pertanto, la lettera di Pomarico, sicuramente garbata, non è ancora stata letta, ma in programma non ci sono incontri né con lui né con l'amministrazione comunale. Il tono usato, a dispetto di quanto si possa pensare, non è accusatorio, bensì quasi rilassato. Emerge, nella breve chiacchierata, un filo di velata tristezza su una vicenda che deve aver scosso profondamente questi imprenditori, che nel castello hanno investito cifre ingenti e che, dopo il sequestro ordinato dalla magistratura, devono essersi sentiti bistrattati dalla comunità federiciana, cui la Romanin fa i più sentiti auguri per il riconoscimento della bandiera arancione, alla quale, ammette, crede di aver contribuito. Furono effettivamente tante, tantissime le manifestazioni organizzate all'interno del maniero durante la scorsa estate. Oggi il castello resta chiuso, invalicabile. Intanto, la cittadinanza si mobilita. Previsti nei prossimi giorni si tine di protesta fuori dalle mura del maniero, ma anche la costituzione di un'associazione in difesa dei beni culturali. La mission? Richiedere l'intervento della sovrintendenza e chiedere la riapertura del monumento ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei beni culturali. Ma c'è un altro codice, quello civile, cui evidentemente fanno riferimento i Romanin. Si parla di proprietà privata. La battaglia, se mai ci sarà, si gioca tutta qui.